In un Palace Ojourner ogni domenica più pieno e partecipe, con gli old fans tornati a riempire la curva terminillo ed una buona presenza di tifo pontino in curva ospite, la NPC vince un derby importantissimo ai danni del Latina di coach Gramenzi, al termine di una gara intensa ed equilibrata, che vede esplodere Chris Morterlaro, autore di 30 punti e 12 rimbalzi. La vittoria era importante, ha dichiarato coach Nunzi. Con la classifica così corta, ogni partita diventa uno spareggio. Abbiamo fatto molto bene, anche se a tratti siamo caduti nei nostri soliti errori. Complimenti ai ragazzi che hanno giocato una partita di grandissima intensità, contro una squadra che vale, lavorando molto di squadra. Noi siamo chiaramente in un momento di difficoltà, con problemi di rotazioni e situazioni fisiche. Oggi ci ha spinto la gente, la tribuna dietro di me, che raramente è stata così rumorosa, tutti in piedi.